Benvenuti nel nostro centro di informazione e pettegolezzi. Prima di immergerci nelle ultime notizie del giorno, un semplice, mi piace, e la tua iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore per il vostro sostegno. Nell'ultima puntata del nostro programma, abbiamo assistito all'apertura di un nuovo capitolo nel mistero che circonda la scomparsa di Liliana Resinovich. È stato un onore ospitare in studio figure di spicco come Claudio Sterpen, il fratello di Liliana, e il suo avvocato. Sono venuti per discutere delle ultime novità e delle possibilità svolte nel caso. Il dibattito è stato estremamente coinvolgente, soprattutto quando si è passata ad analizzare le chiamate effettuate da Sterpen a Liliana nel giorno cruciale della sua sparizione, il 14 dicembre 2021. Sebastiano Visintin, marito di Liliana, ha rivelato di aver intercettato una di queste telefonate durante la quale ha avvertito un'atmosfera tesa, un dettaglio che Liliana gli aveva precedentemente segnalato come frequentate. Il focus si è poi spostato sugli eventi precedenti alla scoperta della scomparsa di Liliana, evidenziando il fervente tentativo di Sterpen di mettersi in contatto con lei attraverso varie chiamate e messaggi. Una comunicazione tentata alle 14.56 ha catturato una voce maschile non identificata con certezza come quella di Visintin. Successivamente, nel tardo pomeriggio, mentre si accingeva a presentare la denuncia di scomparsa della moglie, Visintin ha optato per bloccare il numero di Sterpen, decisione che poi ha revocato solo cinque giorni dopo per poter chiamare l'avvocato della famiglia. Resinovic ha sollevato dubbi su queste mosse, proponendo come fattori significativi per le indagini.